Gli insetti non sono gli unici nemici delle piante, ci sono anche dei batteri e dei funghi, alle volte dei virus, che possono in qualche modo far ammalare le nostre piante. La propoli è l'antibiotico più potente che esiste in natura. La propoli e ogea viene miscelata d'acqua messa in questi contenitori e quando c'è un attacco fungino, un attacco di batteri, basta distribuire abbondante prodotto sulle piante per debellare queste melattie.